Avrebbe abortito e abbandonato il feto sul balcone all'interno di un sacchetto di plastica. Il tutto è accaduto sabato sera 31 dicembre in un albergo di Casteldisangro trasformato in centro di accoglienza per i rifugiati. I carabinieri della compagnia di Casteldisangro stanno indagando su una ragazza nigeriana di 20 anni arrivata in Italia a settembre scorso con altri profughi a bordo di un barcone che potrebbe essere stata indotta la terza persona ad abortire. I sanitari del 118 hanno trovato la ragazza sofferente a letto e sul balcone un sacchetto con il feto di 18 settimane che ancora il cordone ombelicale è attaccato. La donna è stata trasferita immediatamente all'ospedale di Sulmona intorno alle 22.30 e sottoposta a un intervento fortunatamente riuscito. Sono stati gli stessi operatori del 118 a informare i carabinieri. I militari dovranno ora capire se la ragazza ha avuto un aborto spontaneo o se è stata aiutata da qualcuno a farlo con l'intenzione di nascondere il feto.